Ciao a tutti e benvenuti nel canale. Oggi affrontiamo un tema molto caldo e controverso che potrebbe cambiare il modo in cui comunichiamo online. Sto parlando di Chat Control 2.0. Sapete cosa sia? Beh, è una proposta di legge europea che sta sollevando numerose preoccupazioni riguardo alla privacy e alla sicurezza delle nostre comunicazioni digitali. Ma è davvero così pericolosa? È davvero così difficile poter gestire se passa questa norma per noi e difendere la nostra privacy? Beh, se siete curiosi lo scopriamo insieme. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e condividete il video. Magari fatemi sapere anche il vostro pensiero su questo argomento decisamente spinoso qua sotto nei commenti. Allora iniziamo dalla domanda. Ma che cosa è Chat Control 2.0? Chat Control 2.0 è una proposta dell'Unione Europea mirata a monitorare le comunicazioni online per combattere la diffusione di contenuti illegali. In particolare si sta parlando di materiale pedopornografico. Questo è la base di questa proposta di legge. L'idea è di implementare una scansione lato client, ovvero client-side scanning, che andrebbe a esaminare i messaggi direttamente sui dispositivi degli utenti prima che vengano inviati, bypassando la famosa crittografia end-to-end. Ma leggendo in rete e sui social emerge tanta preoccupazione per questa proposta, per chi si è imbattuto in questa informazione. E le opinioni su Chat Control 2.0 sono un po' controverse. La comunicazione digitale è diventata parte integrante della vita quotidiana di milioni e milioni di persone, comprese di anziani. Pensate che mia madre di 85 anni usa Whatsapp per rimanere in contatto ovviamente con me e con la mia famiglia. Ci hanno fatto abituare e usare questi strumenti e adesso cosa fanno? Beh, diciamocelo chiaro, provano a lederci i nostri diritti di privacy. Ma molti esperti di diritti di privacy e di diritti digitali sono decisamente molto molto preoccupati. Dunque questa non è una preoccupazione così a vanvera, diciamo in questo modo, perché questa misura possa rappresentare una grave violazione della privacy degli utenti. La scansione lato client potrebbe portare ad un controllo di massa senza precedenti delle comunicazioni ovviamente private tra persone. Secondo Felix Reda della Society for Civil Rights questo tipo di monitoraggio potrebbe violare la carta dei diritti fondamentali dell'UE, il Digital Service Act o DSA e il regolamento generale sulla protezione dei dati, ovvero GDPR. Dunque secondo lui può violare veramente tanti di questi diritti che abbiamo. Immaginate di inviare una foto di vostro figlio che gioca in piscina con un amico o con un parente. Cosa succede? Con ChatControl 2.0 questa foto potrebbe essere scansionata e per errore identificata come contenuto sospetto. E la conseguenza? Beh, la conseguenza potrebbe essere quella di che potresti trovarvi in una situazione spiacevole con una foto segnalata all'autorità e l'accesso ai vostri account bloccato mentre si effettua un'indagine precisa e più consona. Oppure pensate a chi lavora con informazioni sensibili come avvocati o giornalisti. La possibilità che le loro comunicazioni vengano monitorate potrebbe compromettere gravemente la loro capacità di mantenere ovviamente la riservatezza sulle fonti di clienti, mettendo ovviamente a rischio la libertà di stampa e il diritto, lasciatemelo dire, di difesa. Dunque le situazioni, come capite, sono abbastanza complesse. Gli esperti avvertono che la tecnologia di scansione potrebbe generare un numero elevato di falsi positivi e questo è immaginabile, ovvero identificazioni errate di contenuti illegali. Questo non solo vaccarierebbe le forze dell'ordine con segnalazioni pressoché inutili, ma potrebbe anche portare alla violazione della privacy di persone innocenti. Diciamo che Elina Ekstad del Chaos Computer Club, che uno ora lo vedremo che è, ha sottolineato che la tecnologia di scansione è spesso sopravvalutata e non in grado di garantire una comunicazione privata e sicura. E questo la dice lunga su quello che potrebbe essere appunto questa introduzione di questo nuovo sistema. Un altro punto di critica riguarda l'argomento utilizzato dai sostenitori di questa Chat Control 2.0 che affermano che, come ho detto all'inizio, il principale obiettivo sia quello della protezione dei bambini. Tuttavia molti ritengono che l'iniziativa sia più una scusa per attaccare la criptografia end-to-end e aumentare il controllo sulle comunicazioni private tra persone. Marscus Reuter di NetzPolitik.org sostiene che la vera motivazione dietro la proposta è il desiderio di combattere la comunicazione criptografata che rappresenta un ostacolo assoluto, esempio per le forze dell'ordine e i servizi di sicurezza. Questo lo dichiara proprio apertamente. Ovviamente questa proposta ha suscitato forti opposizioni in diversi paesi europei, tra cui la Germania, l'Austria, l'Irlanda e i Paesi Bassi, che hanno in prima persona, si sono opposti subito a questa cosa. Organizzazioni come European Digital Rights e proprio quello che dicevo prima, The Chaos Computer Club, stanno facendo pressione sui governi per respingere questa chat contro il 2.0, evidenziando le implicazioni negative per la privacy e per i diritti digitali di tutti i cittadini. Una delle maggiori preoccupazioni è il potere che una tale tecnologia conferirebbe ai burocrati. La digitalizzazione e il monitoraggio delle comunicazioni private potrebbe diventare uno strumento di controllo e repressione, piuttosto che di prevenzione. Stiamo parlando di un potere che, se mal gestito, potrebbe portare a derive autoritarie, dove la sorveglianza costante diventa la norma e la privacy diventa decisamente un lontano ricordo. E dunque, cosa possiamo aspettarci? Dove possiamo arrivare? Beh, se la chat contro il 2.0 venisse approvata, potrebbe avere un impatto significativo sulla privacy delle comunicazioni online in tutta l'Unione Europea. Le tecnologie di chitografia potrebbero essere indebolite e le comunicazioni private potrebbero essere soggette a monitoraggio costante. E questo, ovviamente, non può che sollevare importantissime domande etiche e legali su quanto siamo disposti a sacrificare la nostra privacy per che cosa, per la sicurezza e quale sicurezza sarebbe. E dunque, in conclusione, chat contro il 2.0, spero che siate ancora qui a ascoltare questo mio racconto, rappresenta una seria minaccia decisamente per la nostra privacy, per le nostre comunicazioni digitali. Beh, sicuramente leggerò commenti qua sotto il video del tipo io non uso whatsapp eccetera eccetera, ma volenti o nolenti, dal dodicenne all'ultra ottantenne, oggi come oggi una miriade di persone in tutto il mondo usano whatsapp e altri programmi di messaggistica, per fare esempi diretti. Parlo di questo sistema di messaggistica, ovvero di whatsapp, di comunicazione perché ovviamente è il più usato e diffuso in ogni parte del mondo e credo che non si risolva dicendo io non lo uso e amen. Non è così che si risolve problemi, è fondamentale rimanere informati su queste questioni e partecipare al dibattito pubblico, informarsi per proteggere i nostri diritti digitali. Se avete trovato utile questo video condividetelo, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, lasciate un like e poi condividete ovviamente le vostre opinioni, commenti, purché con educazione e tranquillità e restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questi temi importanti della tecnologia e l'attualità. Ciao dai Bighe.